Ci sono Marco, la mamma e il papà, in attesa di conoscere un altro quattro zampe speciale che regalerà loro tanto affetto, il cagnolino che abbiamo conosciuto prima e che finalmente si unirà a loro. Marco, raccontaci un pochino come avete scelto questo piccolo amico. Intanto, come hai deciso di chiamarlo? Pepe. Ok, come hai scelto Pepe? La mamma stava guardando su internet, l'ha visto e ha chiamato. E vi siete subito innamorati? Sì. Ma che cos'è che vi ha colpito di questo cagnolino? Che è meraviglioso, devo dire, avete scelto benissimo, ma cosa è stato il colpo di fulmine e perché? Il musetto, la sua storia anche, comunque il suo musetto. Il musetto hai ragione, è dolcissimo. E poi cosa farai con lui? La farai giocare? Sì. E dormirà con te? Sì. Immagino che tu sia emozionatissimo, come vedo molto emozionata la tua mamma e quindi io direi non aspettiamo un secondo di più, facciamo entrare la nostra Beatrice con Pepe. Eccoci, Pepe, guarda finalmente l'avete aspettato tanto. Pepe, ma quanto è bello, ma sei felice Marco? Sì. Oh mamma mia, è troppo simpatico, ha voglia di giocare ma tu lo sai che lo dovrai far giocare tanto questo cagnolino, dovrà correre. Ne ha una voglia terribile come tutti i cagnolini che passano tanto tempo in gabbia e quindi io vi lascio fare conoscenza di questo piccolo amico. Sì.